Ciao. Dunque, io e Teresa abbiamo fatto un'esperienza tempo fa e volevo chiedervi se è capitata anche a voi una cosa del genere. Ok, allora, Teresa, Ken e io lavoravamo come volontari per un evento. Era in corso una seduta in cui tutti parlavano dei propri problemi e il leader ogni volta che suggerivo qualcosa, diciamo che non mi considerava e chiedeva agli altri se avessero dei suggerimenti. Come se ciò che avevo detto non convenisse fosse discusso, come se io non contassi un bel niente e che è anche peggio. E Teresa è stata trattata allo stesso modo e ci siamo sentite molto confuse e indispettite. Anche Ken si è piuttosto indispettito perché a lui piacevano le nostre idee. Allora ha deciso di ripeterle, in modo che tutti i presenti potessero ascoltarle. Il leader lo sente e dice, grande idea, Ken. Oh, è proprio quello che stavamo cercando. E io mi sono chiesta, che cosa diamine sta succedendo? Allora facciamo un esperimento. Io avrei detto qualcosa e un minuto dopo Ken avrebbe ripetuto la stessa cosa parola per parola. E il leader sente solo Ken e fa grande idea, Ken. Non si era nemmeno accorto che avevo parlato anch'io. Vi chiedo dove sta il problema? Tra poco sarà la giornata mondiale della donna e voi certamente sapete che è uno dei giorni che preferisco di tutto l'anno. Per cui ho pensato di dare vita a un vlog che potesse celebrare le figure di tutte le incredibili donne che ci sono nel mondo. Le madri con le figlie, le sorelle, le zie e poi anche le nonne. Le umanitarie, le scienziate che hanno saputo rendere il mondo un posto migliore. Le artiste che riescono a dare un senso a tutte le cose e poi le inventrici che ci fanno progredire. Queste sono le donne che ci ricordano che possiamo scegliere. Ma a prescindere da quello che penso, alla fine i contenuti si riducono a voi e a me e a questa giornata. A volte è necessario avere una grande forza per farsi ascoltare, per essere riconosciute in qualche modo. Mi sono sentita male durante quella seduta. Avrei voluto tornare a casa e io non mollo mai, ma quella volta l'avrei fatto. Ken e Teresa mi hanno detto no, perché ci trovavamo in quel posto per una causa molto importante e le mie idee erano buone e quel leader forse non capiva quello che stava facendo. E siamo rimasti. Ma sia io che Teresa ci siamo impegnate per essere sicure di essere sentite. E ci siamo aiutate. Allora io dicevo, oh Teresa, hai avuto un'idea geniale, hai sentito quello che ha detto Teresa? Oppure lei diceva, oh sì, come stava appunto dicendo Barbie, credo che sia una cosa molto interessante. Penso che questo sia riuscito a fare la differenza. Si parla spesso di donne forti che ce l'hanno fatta. Ma forse dovremmo parlare anche delle cose più legate al quotidiano. Dobbiamo tenere i riflettori accesi sulle piccole cose che possono schiacciarci. E dobbiamo fare in modo che non riescano a farlo. Parlando a nome di tutte le donne sempre. E facendo sapere a tutte che non siamo le uniche a sentirci in questo modo. E restando quando c'è una conversazione. E a poco a poco sono convinta che riusciremo a fare la differenza come l'hanno fatta tutte le donne che ammiriamo così tanto. Dunque a noi, alle donne di tutto il mondo, che mi piacerebbe così tanto stringere forte in un enorme abbraccio. Un atteggiamento positivo può realmente cambiare qualsiasi cosa. Un passo alla volta, camminando insieme. Così daremo voce a ognuna di noi. E questo è il vero potere. Sì, l'abbiamo capito. Pensa.